Ma sai, il Milan gioca così, aggressione forte, però devi leggere le situazioni. Quella è, sei uno contro uno a campo aperto, non hai coperture, a quel punto non stai attaccato. Ti prendi a una distanza di un braccio pronto a scappare e vedere la palla, perché lui non vede la palla. Una volta che la palla passa, vedi lui, non la vede più e a quel punto si aggrava. Era un filino solo. E Beppe, in quelle occasioni, non è meglio nel momento in cui è perso, come dici tu, troppo attaccato, non vedi più la palla, perché questi difensori che sono fortissimi fisicamente, vogliono sempre cercare l'anticipo e vincere il duello, col petto gli faranno addosso. Girato di schiena non può essere mai espulsione, al limite giallo, al massimo. Anche nel pensare da giocatore superiore, da difensore superiore, cioè ho sbagliato l'intervento, io gli farò addosso di petto, invece che cercare poi di rigirare intorno a lui e poi d'engolo a maglia. Pensiero troppo veloce per un giocatore magari più esperto, no? Alla Tiago Silva, provo a immaginare, no? Che arrivo, sono irritato, petto sopra e gli faranno addosso. È un ottimo giocatore. Gli era successo un po' in maniera diversa, un po' anche nel derby, con l'uno contro uno con Turan, sempre su una palla giocata sull'esterno. C'era tanto spazio però tra loro due e tutto il resto degli altri. È rimasto proprio da solo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.